Pace e bene, vi vogliamo bene, questo è il saluto di noi frati. Prima mi chiedevo che cosa è la spiritualità? L'amore, quindi questo è un momento di spiritualità che noi viviamo, quindi è una cosa molto bella. Il nostro sacerdote di questo momento di spiritualità è Renato, però. Allora, davanti a tutti Renato voleva fare la cresima, ma non veniva mai al catechismo, allora quest'anno gliela facciamo fare ad onore, va bene? Senza il catechismo. Va bene, mi hanno chiesto di dire una preghiera, quindi vogliamo innanzitutto, questo è un momento che ci dà forza a tutti quanti, perché siamo tutti nella sofferenza, però vogliamo veramente pregare con una preghiera che alcuni di voi più grandi mi dicevano che chiedeva sempre di fare padre felice, molto semplice, erano tre avemarie e noi vogliamo pregare veramente per, innanzitutto, per tutti gli ammalati di questa tragedia mondiale, per tutte le persone che sono in prima linea, per tutti noi che siamo nelle case, ma in modo particolare per quelli che ne stanno soffrendo di più, perché ci sono delle persone che ne stanno soffrendo di più, quindi questa preghiera veramente possa raggiungere il loro cuore. E poi so che qui nel vostro rione c'è Sergio in ospedale, vogliamo pregare anche in modo particolare anche per lui, quindi diciamo insieme queste tre avemarie. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto e il frutto è il frutto del tuo seno Gesù. Grazie a tutti! Grazie a tutti!